La soluzione al problema della depurazione non arriverà prima del 2022-2023, almeno per quanto riguarda i 135 agglomerati oggetto di infrazione da parte dell'Unione Europea. Sono i dati del report pubblicato pochissimi giorni fa dalla Regione. Il dossier contiene il cronoprogramma delle opere che dovrebbero partire l'anno prossimo in piena campagna elettorale per le regionali, tranne pochissimi casi sporadici di inizio lavori previsti per la fine di quest'anno. Gli interventi dovrebbero definitivamente risolvere il problema depurazione in Calabria, azzerando, si spera, le segnalazioni sugli scarichi a mare, diventato ormai un refrentrito e ritrito dopo decenni di pessima gestione degli impianti. Inutile sperare di poter dribblare la multa che l'Europa ha combinato all'Italia per metterci in regola anche con quelle amministrazioni in potenziale procedura di infrazione, ci vorrà tantissimo tempo, segno che esiste un problema infrastrutturale molto grande in Calabria sul settore depurativo. Stando agli ultimi dati disponibili, basati sulle previsioni degli stessi esperti che hanno redatto il piano dei progetti, i lavori nella Locride per i comuni multati dall'Europa dovrebbero partire il 31 dicembre 2019 con in lista Gioiosa Ionica, Guardavalle, Mammola, Placanica, Platì, Riace e Roccella Ionica. Slitta, invece, Grotteria, dopo l'avvio dei lavori è stato posticipato al 30 giugno 2020. Ieri mattina, intanto, all'Unical si è riunito il Comitato di Sorveglianza dei Fondi POR. 49 milioni di fondi europei serviranno per 19 progetti, altri 148 sono invece a disposizione della delibera Cipe datata 2016. Attualmente, stando a quanto detto dal Governatore Oliverio, 9 sono i progetti in avvio. Questo perché il programma di investimenti è ancora in attesa di approvazione. Non c'è nulla, quindi, di definitivo né sui tempi né sulle cifre.